E' stato sottoscritto ieri un accordo tra parte delle sigle sindacali e l'ASLBT per il conferimento di nuovi incarichi organizzativi e professionali del comparto sanità, dunque non solo per medici ma anche per infermieri e os. Sono nello specifico infatti FIALS, Narsinghap, CISL e Narsind di sindacati che hanno sottoscritto con l'ASLBT l'accordo, diversi punti toccati nel documento di cui si dice particolarmente soddisfatta in una nota la rappresentanza sindacale unitaria che però ha perso la CGL. Il sindacato confederale ha deciso infatti di non firmare l'accordo contestando aspramente le scelte dell'azienda sanitaria. Nello specifico comunque per il comparto sanità sono previsti 59 incarichi di funzione organizzativa, 103 di funzione professionale e 15 incarichi per gli operatori sanitari. Per il comparto PTA professionale, tecnico e amministrativo sono stati previsti 12 incarichi organizzativi e 31 professionali per funzionari, 4 invece per gli assistenti e 2 per gli operatori. Secondo la direttrice sanitaria della ASL Tiziana Di Matteo, questo accordo è funzionale alla nuova organizzazione aziendale. Per i sindacati firmatari si tratta di svolta epocale, mentre per la CGL le scelte dell'azienda porteranno a conseguenze di natura organizzativa e strutturale con una ricaduta sulla qualità dell'assistenza. Proprio la CGL ha voluto rimarcare la sua contrarietà all'accordo, sottolineando come sia incomprensibile il ridimensionamento di alcune unità operative, come l'angiografia del bonomo di Andrea, che comporterà sicuramente un abbassamento della qualità dell'assistenza, spiegano dal sindacato, oltre alla non valorizzazione per il personale dei distretti e il mancato potenziamento dell'assistenza territoriale. Si parla anche di cancellazione dell'incarico organizzativo della radiologia territoriale del PTA di Trani. Di tutt'altro tenore invece la nota di commento dei sindacati firmatari, che parlano di piena valorizzazione delle professionalità esistenti, premiando quanti quotidianamente lavorano con impegno e dedizione per migliorare il sistema sanitario.